Ciao a tutti, grazie. Io la faccio breve. Prima però del mio breve intervento volevo riportare di nuovo i saluti del mio amico segretario provinciale del Ticino Andrea Bartolini che non c'è per motivi di salute anche seri, però lui è qua col cuore, con la testa, ci segue, quindi c'è e lo rivedremo molto presto. Allora, io ho due cose veloci, uno sul tema autonomia referendum che avremo l'anno 21 e l'altro una considerazione interna sulla Lega, su come possiamo aiutare Salvini. Allora, sul tema autonomia referendum, che sia in atto un attacco forte al mondo dell'autonomia e lo stiamo vedendo, particolarmente forte sulla sanità, quest'anno abbiamo avuto tagli importanti, l'anno 21 ancora tagli importanti, però c'è una cosa che dobbiamo sapere tutti. La sanità italiana, non quella lombarda, quella italiana è la sesta al mondo come qualità, quindi non siamo messi poi così male. Costa tanto? No, è la terza al mondo come efficienza, cioè costa pochissimo, eppure ha una qualità buona. E questa è la media. Figuriamoci, se questa è la media, noi siamo messi sempre nelle prime posti della classifica, poi c'è chi è messo peggio. Ma allora, se c'è una cosa che funziona, perché lo Stato la vuole smontare e portavi i soldi? Semplicemente perché sono disperati, non hanno più risorse e l'unico posto dove sono riusciti a trovarli ancora quest'anno è la sanità. Però noi, nonostante questo, già quest'anno abbiamo abbassato i ticket, poi Maroni insiste, lo faremo ancora l'anno 21 e sorpassiamo tutti in discesa. Noi stiamo dimostrando nei fatti che la Lombardia è già speciale e il referendum dell'anno 21 sarà molto semplice. Noi dovremmo chiedere ai nostri compagni cittadini lombardi, e dico compagni non a caso, dobbiamo chiedere una cosa semplice. Ma sei proprio così sicuro che se noi le chiavi, invece di darle al governatore Maroni, le diamo giù a Roma a Renzi, le cose vanno meglio? Sei sicuro che la sanità gestita a Roma può funzionare meglio? La scuola professionale gestita da Roma può funzionare meglio? Logicamente la risposta non può essere che no. Per cui noi su questo tema abbiamo tutte le carte in regola e dobbiamo giocarla fino in fondo. L'altro tema è interno. Come organizzazione Lega noi abbiamo una fortuna oggettiva, abbiamo Matteo Salvini, l'abbiamo visto anche oggi, che è un fenomeno. Ha portato la Lega a dei consensi molto importanti, siamo oltre il 16% addirittura, ha aperto uno spazio politico enorme. Attenzione però, noi che cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo coprire questo spazio politico, dobbiamo coprire le spalle a Matteo Salvini. Riempire lo spazio politico non vuol dire riempire le poltrone, dobbiamo essere chiari su questo punto. E ve lo dice uno che ha lasciato una poltrona un po' più comoda al Senato per prenderne una un po' più scomoda come assessore in Regione Lombardia, cosa che rifarei domani, non solo perché ho l'onore di lavorare con Roberto Maroni, ma perché i militanti della Lega devono giustamente fare quello che è utile al Movimento. Però, dicevamo, come possiamo aiutare noi a coprire le spalle a Salvini? Come possiamo riempire questo spazio politico che lui ci ha aperto con le sue capacità? Noi possiamo riempirlo dando contenuti e azione politica. Contenuti vuol dire nuove idee, nuove cose da fare e dimostrare nei fatti cose fatte buone. Azione politica, come per esempio ha già dato dimostrazione di saper fare molto bene Paolo Grimoldi, la manifestazione di Bologna, io mi tengo la spilla perché è stato veramente un successone e dobbiamo essere orgogliosi di queste azioni politiche che siamo in grado di fare. Quindi le possibilità le abbiamo, dipende da noi. Un suggerimento però, in particolare ai giovani, il contributo sarà maggiore, più ti impegni nelle cose che già devi fare. Quindi chi studia, studia di più, chi ha una professione o un lavoro si impegni di più nel lavoro, maggiore sarà il contributo che puoi dare alla Lega. Questo è quello che dobbiamo fare noi da soldati, da militanti della Lega. Chiudo con un in bocca al lupo Paolo Grimoldi. Sappia Paolo Grimoldi che non solo ha tanti amici, ma ha soprattutto una squadra dietro. La differenza che c'è tra noi e gli altri partiti è che noi siamo una squadra e quindi nessuno è mai da solo. Noi siamo tutti con lui. Viva Salvini, viva la Lega e di nuovo in bocca al lupo Paolo Grimoldi. Ciao a tutti.